Infiammano l'opposizione le dichiarazioni del commissario ad acta della sanità bruzzese Gianni Chiodi sulla manovra finanziaria che introduce il ticket da 10 euro per le visite specialistiche e aumenta i prezzi dei farmaci. Alla vigilia del vertice romano e all'indomani l'annuncio del governatore circa la sospensione di due settimane del ticket in attesa di misure alternative, il capogruppo dell'Italia dei Valori Regione, Carlo Costantini, non usa mezzi termini. Costantini denuncia infatti la presunta istituzione di 15 nuovi consigli di amministrazione e da un lato invece il taglio della sanità che va a danno delle persone indigenti. La nostra posizione è anzitutto di critica nei confronti della scarsissima credibilità del Presidente che nell'arco di una giornata è capace di cambiare idea quattro volte. Questo è accaduto fondamentalmente ieri, primo. Secondo è incomprensibile come possa il Presidente da una parte dichiarare che il risanamento dei conti procede a gonfie vere e dall'altra parte riconoscere la necessità e l'ineludibilità dell'introduzione di questi ticket. Se i conti vanno meglio non c'è necessità di introdurre il ticket, se c'è necessità di introdurre il ticket vuol dire che i conti non vanno poi così bene. Il paradosso è che Chiodi e la sua maggioranza propriamente si accingono a mettere le mani nelle tasche dei più indigenti, pretendendo 10 euro da una visita specialistica dalla quale molto spesso dipende la sopravvivenza, la vita stessa delle persone. In questo stesso momento in Consiglio regionale si accinge Chiodi a ripristinare 15 belle poltrone per i 15 nuovi consiglieri di amministrazione e case popolari che erano stati tolti e che questo pomeriggio vorrebbero ripristinare. Pagati lautamente il 30% delle indennità di carica del Consigliere regionale il Presidente, il 10% degli altri membri, i 5 Presidenti avranno l'automobile, avranno il telefonino, avranno la struttura di staff. Io mi chiedo dove abbiano trovato la forza in un momento così drammatico, all'indomani di una manovra così dura e pesante per tutto il Paese, dove abbiano trovato la forza e come l'abbiano trovata per proporre l'introduzione di 15 nuovi consiglieri di amministrazione. L'Italia dei Valori farà un'opposizione feroce per sventare questo rischio e per fare in modo che questi 500 mila euro vadano ai ticket o vadano tutto il più per pagare i canoni degli alloggi popolari e delle famiglie indigenti che le occupano. E mentre fuori a Palazzo dell'emiciclo, dove oggi si è riunito il Consiglio regionale, manifestano gli iscritti della CGL regionale contro la manovra finanziaria di governo, il capogruppo del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, prende tempo, in attesa di una misura condivisa e alternativa all'introduzione del ticket che penalizza le persone più deboli. Avevo sostenuto sin dall'inizio che l'applicazione del ticket era evitabile, eventualmente mettendo in campo delle alternative come fanno le altre regioni. Ieri mattina il Presidente Chiodi ha dichiarato la inevitabilità dell'applicazione del ticket, salvo poi la sera arrivare a maturare un'altra posizione per fortuna di congelare i ticket. Io credo che innanzitutto, ho letto anche questa mattina alcune cose del Presidente Chiodi che mi convincono, come reperire eventuali risorse da coprire il getto della mancata applicazione dei ticket, ma di una cosa dobbiamo essere tutti consapevoli, che non c'è spazio per introdurre nuovi ticket in Abruzzo. Colpiamo le persone che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà, coloro che hanno bisogno di salute, coloro che hanno bisogno di visite specialistiche, cioè sono le persone in difficoltà. Non ce lo possiamo permettere.